musical, nati anche questi in America e poi come la maggior parte dei prodotti americani diffusosi in tutto il mondo e da cui l'Italia ha preso spunto per creare le commedie musicali. Andrew Lloyd Webber, come Susa lo era per le marce, è sicuramente il compositore di spicco di questo genere musicale. Musical come Il fantasma dell'opera, Cats e Evita sono da decenni in replica nei più famosi teatri del mondo. Il brano che sentiremo oggi riguarda la trasposizione in musica, scene e danze della Passione di Gesù Cristo, rendendolo a suo modo una star. Il trascrittore di opere per banda è l'olandese Outlast, che è uno dei tanti pseudonimi utilizzati da questo musicista per l'arrangiamento di opere altrui, cambiando pseudonimo a seconda del genere musicale. A voi le pagine musicali più interessanti di Jesus Christ Superstar, dirige il maestro Ignazio Pilloni. alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.